6 condanne e 2 assoluzioni nel processo agli attivisti Notav per gli scontri con le forze dell'ordine durante i carotaggi all'autoporto di Susa nel febbraio 2010. Tra i condannati il leader Luca Abba che l'anno scorso rimase folgorato salendo su un traliccio dell'alta tensione. A lui e ad altri 5 sono state inflitti 5 mesi, a un altro imputato un mese. L'accusa aveva chiesto pene fino a un anno e tre mesi. I legali dei condannati preannunciano ricorso in appello.